Come la vivi questa cosa? Ci sei rimasto un po' di merda che l'ha preso lui e non tu No, il fatto è che il turno successivo mi era passato a me Ok Gli ho sparato ma non ci sono arrivato Poi Giuliano Tagliacozzo comunque lui lo conosce chiunque per il suo gran culo Giuseppe Iola, benvenuto Grazie, ciao Allora, io è da tanto tempo che seguo il mondo della pesca subacquea E tu sei stato sempre uno di quei volti che riviste, social media e quant'altro è sempre stato presente Dimmi chi sei, da dove vieni, dove abiti, che fai nella vita, raccontami di te Allora, innanzitutto abito in provincia di Roma, a Latispoli Ho la fortuna di stare sul mare perché Latispoli appunto è una città bagnata dal mare Quindi sto a mezz'ora da Roma E questa è una grande opportunità perché anche se ho due ore al giorno libero posso comunque andare al mare Ok Quindi comunque io faccio la guardia giurata, lavoro di notte Vuoi non vuoi di giorno al mare ci vado sempre Mare permettendo, condizioni favorevoli ci vado Quindi questa è una grande fortuna Quanti anni hai? Ho 37 anni 37 anni Bene, Davide Ma non ci sta, dai, ci sta Va bene Accurato Divi una cosa, quando ci siamo sentiti su Whatsapp Perché ci siamo scambiati il primo contatto Mi raccontavi che tu non hai vissuto sempre a Roma No No, infatti, allora, mia madre è di Roma Mio padre è siciliano Solo che, a parte questo, mio padre faceva il carabiniere Mi ho andato in pensione due anni fa E col fatto appunto che faceva il carabiniere Mi sono girato, diciamo, mezza Italia Poi lui, essendo siciliano, per un periodo si è fatto trasferire in Sicilia Di preciso a Corleone Provincia di Roma Che tu conosci bene Ok Quindi sono stato dieci anni a Corleone Poi, dopo dieci anni di Corleone Mamma, essendo romana, si è suvata Ha detto, basta, io vi torna comunque a Roma Quindi, stiamo tornando a Roma Un cambio importante da Roma a Corleone Senza Luna togliere a Corleone Ma parliamo di big city e villaggio praticamente Sì, e poi ti sto parlando comunque di 25 anni fa Pure di più, comunque Non è come adesso Erano altri tempi Poi a Corleone Ok Non avevo Poi ero figlio di carabiniere Quindi ti ho detto tutto Sì, infatti, dico Allora, non vogliamo chiaramente Chiacchierare di luoghi comuni Ma No Ma tanto Tutti gli amici di Corleone che mi conoscono Stanno come la penso e tutto quanto Quindi Non è un problema E quindi poi Poi da lì siete tornati direttamente a Roma? Siamo tornati a Roma Poi appunto Corleone sta al centro della Sicilia Quindi per me il mare era un problema Comunque quando finivo le scuole Io giugno, luglio e agosto Comunque andavo dai nonni a Roma Ok Alla Dispoli A mare Mi ricordo da ragazzino Che c'evo 7-8 anni Io la mattina alle 5 Scappavo Io scappavo a mi nonna Da sotto la finestra Perché mia nonna abitava La casa di mi nonna Si affacciava proprio sul mare Quindi Io la mattina via Andavo Eri lì Ok Comunque Poi la passione per la pesca Come d'altronde quella della caccia Mi l'ha trasmessa a mio padre e a mio nonno Quindi È una passione tramandata Che cosa ti piace cacciare? Cacciare in acqua o a terra? A terra Vabbè Calcolo a 2-7 l'inglese Faccio più che altro penname Quindi beccacce, faggiani E nel romano dove ti sposti? Quali sono le zone che di solito batti? Le zone di torfa Chi è della zona Ok Ok Interessante Vedi questa per esempio è una cosa Ora L'altro giorno ho visto qualche fotografia Non so se era la tua Ma mi viene quasi da scommettere Sul fatto che probabilmente Ti piace anche raccogliere funghi Esatto È una cosa che è comune a tantissimi pescatori Hanno la passione per il surf Per la caccia Per i funghi C'è un certo senso di chiamata Verso la terra Mettiamola così Diciamo che la caccia La pesca La raccolta funghi Fa parte della natura Tutto ciò che circonda la natura È naturale Comunque noi nasciamo calciatori E voi non puoi Sì 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 Assolutamente Appoggio totalmente Dimmi una cosa Allora io Di nuovo Mi piace tanto seguire la scena online Mettiamola così E spesso ho visto che tu sei stato al Blue Camp Può essere? Il Blue Camp è un evento organizzato da Giuliano Tagliagozzo Il titolare della Blue Sub Ok Questo è il quarto anno che partecipo Essendo diciamo uno sponsorizzato della Polo Faccio parte appieno dell'organizzazione ecco Ok Raccontami di questa cosa Cioè è un evento aperto a tutti È una cosa per pochi Come funziona? Diciamo che Blue Camp nasce come un evento Per quanto riguardava gli atleti della Polo Sub Poi con gli anni diciamo si è aperto un po' a tutti Appunto è un evento che adesso punta a mirare A diciamo a richiamare i più giovani Ecco Ok All'interno del Blue Camp c'è sempre comunque gente molto più esperta Con anni di esperienza Quindi i ragazzi sono tanti Ha le prime armi che chiedono E vogliono venire E sono venuti al Blue Camp Il Blue Camp non è una gara ma è un evento che racchiude amicizia La passione per la pesca Ok Comunque poi la pesca non è solo pescarlo il pesce Ma poi il bello viene dopo Cucinarlo Io avevo visto qualche video di tutta una serie di scherzi che forse tu facevi Bellissimi Cioè è bello è quello lo spirito Sì è una guarda Il Blue Camp Tutti quelli che sono venuti Sono rimasti diciamo incantati Già ci domandano per l'anno prossimo Se si farà o Fantastico Poi peraltro è fatto in una cornice spettacolare Dove lo fate voi? All'Isola del Giglio Però è stato fatto in passato anche a Ponza Poi in altri luoghi ma io non c'ero Mi pare la Maratea ma non mi ricordo di preciso Ok ok interessante Allora dimmi una cosa A me piace parlare di una cosa nello specifico Ma io cerco sempre di addentrarmi in questo ambiente Ma la pesca subacqua sembra una cosa per pochi Cioè Si vedono più o meno sempre le stesse facce Com'è l'ambiente della pesca subacqua nella tua regione? Cioè in termini Sai persone, profili, rivalità Esiste questa sorta di ambiente nel nostro settore? Penso che esiste come la rivalità certo Inutile Comunque sì nel Lazio Comunque ci sono tanti pescatori conosciuti Che gareggiano Campioni E no Comunque io il mondo delle gare Non è un mondo che mi appartiene Non mi interessa proprio Come mai? Come mai? Perché La pesca io la vivo Per me è una passione Le gare Non lo so Poi subentrano tante altre cose Invidie Ha una dinamica diversa sicuramente In acqua Sì Ha una dinamica diversa Comunque è un impegno pure fare delle gare Hanno pure un costo Quindi non è che fai la garetta qui nel Lazio Ed è finita lì Non è così Comunque poi le gare Devi andare pure in altre regioni E quindi Devi portare il gommone Se ti interrompo Però dici parli di impegni Però io ho visto che sei stato da poco Dall'altra parte del mondo A divertirti Beh era un anno Quello che non andavo in ferie Quindi io mi metto sempre La giornata Per poi Fa la vacanza E comunque Sempre una vacanza di pesca E questo È stato chiaro Dove sei stato? Raccontami di sta roba Che è stato scioccante Sono stato A Miami In Florida Ci siamo fatti con Giuliano Tagliagozzo Una settimana di pesca lì Ci hanno ospitato degli amici Che abitano lì L'hanno portato a pesca Un'esperienza bellissima Cioè lì È un'altra cosa Siamo stati anche a Key West Che Nel Golfo del Messico E Guarda È bellissimo Una ficata È una cosa che io Auguro un giorno Di farla tutti Insomma Perché È un'esperienza Fichissima Traducimela in parole povere Cioè noi veniamo da un mare Che chiaramente È povero Mettiamola così Innanzitutto Lì Di pesce Diciamo Ce ne sta tanto Ce ne sta tanto Perché comunque Lì non ci sono pesche recci Non ci sono strascichi Non ci sono Cianciole Lì Quella pesca È tutta illegale Se c'è qualcosa Sta oltre i 30 miglia Quindi Lì Poi lì è pieno di relitti Ci sono tanti relitti Che comunque Il pesce Vuole un vuole Lo richiamano Poi lì La pesca è uno stile di vita Pesca chiunque Con la canna Sott'acqua Lì È un'altra cosa Poi comunque Quando sta lì immerso In quell'acqua C'è di tutto Tanti pesci Tanti Tanti colori Poi a me La sensazione La sensazione Qual è stata? Beh Io già ero stato A pesca a Miami Anche in oceano Insomma Quindi La sensazione Lì ti senti Più libero Ti senti più In natura Che comunque Ci sono molti predatori Ecco come Ci sono dei barracuda Enormi Ci sono i squali Che devi Ti devi spiegare Quando sparì un pesce A venire su col pesce Se no arriva lo squalo Te lo porta via La cernia golia Che te lo porta i pesci Cioè Sta dentro una giungla Diciamo Ok Quindi ti senti Corregimi se sbaglio Ti senti un po' Preda Da certi punti di vista In certi momenti Tu lì sei una preda Certo Ok E te la ricordi La prima volta Che hai messo la testa Sott'acqua Quando sei andato in oceano Beh ho detto Wow Ok Ok E raccontami Di quell'esperienza Perché quando sono entrato Qui in Inghilterra Per la prima volta Ho detto Cazzo Qua mi devo guardare attorno Io Per esempio Lì come è stato Perché comunque Ti va a buttare Cazzo A Miami Certo La prima volta Che mi sono buttato A Miami Comunque stiamo parlando Di circa Cinque anni fa Ok Niente Mi portano In barca Vado fuori 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 Lui Questo ragazzo Mi fa Vabbè buttati Mi butto Acqua pulita Mi butta sopra Un relitto Barracuda Che mi giravano Intorno Lì Questo è il paradiso Bellissimo Bellissimo Cioè poi Quando stai lì Io poi comunque Sono un tipo Molto emotivo Quindi quando Mi sono Ero emozionato Quindi poi stai lì Poi vai giù Non c'hai Lo stesso Magari Tempo Tempo di Appenna Che magari A casa Non hai di più Quindi Emozionato Ti senti veramente Emozionato E hai la sensazione Che questo Sia costante Cioè io Per esempio Sempre qui Rapportando la mia esperienza Hai sempre L'idea che Possa capitare qualcosa Dietro l'angolo Sì Lì sì Perché Ti ripeto Pieno di pesce Comunque l'acqua Non è sempre pulita Comunque ci sono i squali E lì Non è Di pesce a cavetto Sulla cittadina Non puoi Completamente Che cosa Cosa ci facevate Con tutto sto pesce Quando Dopo che lo prendevate A parte che Non eravamo soltanto Io e Giuliano Che pescavamo Ma pescano pure altre persone Quindi Quindi si divideva Lo cucinavamo Si congelava E via E quando siamo stati A Key West Lì eravamo Con un amico Che lui Ha la barca commerciale Lo fa per lavoro Quindi il pesce Poi Andava Solo tira lui Ho capito Ma torniamo Torniamo nel nostro porto Che è quello romano Raccontami della pesca Che fai Nel Lazio Raccontami Una tua giornata tipo Quando esci in gommone Allora La mia giornata Tipica La mattina alle 7 Stacco da lavoro Se sono stanco Vado a casa e dormo Faccio un paio d'ore E poi vado a pesca Se no vado direttamente a pesca D'estate vado direttamente a pesca La mattina Sempre tutto con calma Vado E E butto Via Il fatto che io comunque Posso andare pure Tra un'altra settimana Di giorno Magari la maggior parte Dei miei amici Lavorano Non possono Quindi sto diciamo Quasi sempre da solo Ok Non mi dispiace Perché mi rilasso Sono molto più tranquillo Che quando porto qualcuno Io so quello che faccio io Ma non so mai Quello che fa lui Io sto attento Mi guardo sempre intorno Invece Non mi guardo mai Un'altra persona Come Quindi sto più preoccupato Penso più all'altra persona Che a rilassarmi a pesca E niente Poi quando è ora di pranzo Massimo le 2 Le 3 Ritorno Ritorno arriva Ecco Poi La pesca In base alla visibilità Che da noi è sempre Molto scarsa Faccio Tana O Aspetto Ok Che fucile utilizzi Parlami della tua attrezzatura Allora Per quanto riguarda i fucili Io uso Per quanto riguarda Il corto Da Tana O per quando L'acqua è veramente Torpida Un cinquantino Un cinquantino Carbonio Della GFT Ok Con un mono Da 18 E assa Da 6,5 E poi Fioscina Oppure Utilizzi la fiscina Utilizzi la fiscina O la taitiana Io la Allora Io la fiscina Penso che sono Uno dei pochi pescatori Nel Lazio Che non usa la fiscina Ok Perché Ho pensato Sì con la fiocina Ok I pesci C'è più probabilità Specialmente in Tana Di prendere i pesci Ok Però Se mi capita Un pesce grosso Che faccio Quindi preferisco Non sparare O perdere un sale Con una corvina Ma se mi capita Un pesce comunque di mole Con la taitiana Lo prendo Sicuro Ok Ok Comunque Col fatto che vado Ogni giorno Posso fare comunque Seleziona Perché comunque Io il pesce Non lo vendo Ok Con il conservatore di casa Che è pieno di pesce Anzi Gli amici Quando vanno a casa Che li invito La prima cosa che fanno Vanno Avranno il freezer E poi i pesci Ci stanno Ok Ok Interessante Dimmi Dimmi una cosa Batimetriche Abitudini Come Dico Una giornata Tipo nel Nel grotto Nel famosissimo Grotto laziale Allora Calcola che qui Da noi Trovi Diciamo Il grotto A meno Della parte dove so io La dispoli Trovi il grotto Fino a 20 metri Di profondità Dopodiché È tutto fango Quindi la pescata tipica Varia dai Dai due metri Sottocosta Ai 15 Barra 20 metri Ok Ok Gli ultimi cigli A largo Delle secche Qui di Torre Flavia Quindi quando esci Puoi fare Qualsiasi Pescata Aspetto Aguato Tana Puoi andare Sia nel Sottocosta Che fuori Cioè Quando esci Fai quello che vuoi Ecco Ok Quindi abbastanza Ti dà la possibilità Di fare tutto È interessante Ti dà la cosa Io Alla portata Come? Alla portata di tutti I fondali Che ci sono Ok Dimmi una cosa Io Nel Palermitano Spesso Conosco una zona Di grotta È l'unica vera zona Di grotto Che conosco Nel Palermitano E quando scende in Sicilia Ho sempre La cosa Di andare a guardare Perché è stato un posto Che mi ha Tra virgolette Insegnato tanto Comunque mi ha Cominciato a fare Prendere dei pesci Ma non mi è mai Stato chiaro Esattamente Su questi panettoni Di grotto Che poi finiscono Sulla sabbia Esattamente Dove si trova Più regolarmente Il pesce Ora capisco Che è una domanda Che è difficile Però spesso Sento dire Che il pesce Potenzialmente Si concentra Sempre nelle parti Esterne Di questi Grossi panettoni Qual è la tua Esperenza col grotto E come affronti Quando peschi in tana Il grotto Beh a parte Che il grotto Che frequento Io solitamente Lo conosco A memoria Come le mie tasche Quindi Ok Dove si potrebbe Trovare Che ne so Magari una cernia O delle corvine Però questo Se trovo Dei massi Isolati Così Sulla sabbia Comunque Io Tendo a Caderci sopra Guardare dall'alto Ok La cernia La data All'alto Poi La giri Tutto intorno Comunque Non puoi mai Non conoscendo la zona Non conoscendo niente Non puoi mai sapere Dove sta il pesce Dove potrebbe Stare Sia la parte esterna Ma anche la parte interna Perché no Poi ti pensi Magari Dove sbatte la corrente Ok Ok Interessante Allora Tornando un attimino Sulla terraferma Mi dicevi che fa La guardia giurata La tua giornata di lavoro Invece Com'è? Raccontami La dinamica Allora La mia giornata di lavoro Hai lavoro 12 ore al giorno Dalle 7 di sera Alle 7 di mattina Mamma mia Diciamo Beh Dove sto non è pesante Sì Stai comunque Di notte fuori casa Tanti dicono Noi vabbè Ma tanto De notte Non fai niente De qua De là Magari dormi pure Guarda E come dici tu Provaci tu A dormire A stare fuori casa 12 ore Per 15 anni Poi me lo dici Se ce la fai Saregi in botta Io penso che comunque Non è un lavoro Per tutti Ok Alla maggior parte Delle persone Piace dormire la notte Soprattutto dentro Alla casa Magari In mezzo alle cosce Dei propri mogli E questa è una cosa Che non tutti La gente chiacchiera Però Sì Poi all'atto pratico Poi comunque Io tutte le festività Me le faccio al lavoro Natale Capodanno Sono sempre al lavoro Quindi E tu praticamente Monti E che fai Stai in macchina Giri Come funziona Dipende dal servizio Sto in macchina Comunque sto in postazioni fisse Magari ci stanno Le telegame Le controlli Varie Insomma L'esperienza più adrenalinica Che hai avuto al lavoro Qual è stata? Guarda In 15 anni di servizio Mi è capitato Mentre ero di servizio In una villa Di un privato Era d'estate Erano le 10 e mezza Ad agosto Faceva un caldo Guarda Si crepava Siccome questa piscina Aveva una Sì questa piscina Scusa Questa villa aveva una grande piscina Ok E ho pensato Di farmi un giro Intorno alla villa Passando Per la piscina Magari Dammi Una rinfrescata Alle mani Lì in piscina Quindi Vado a fare questo giro E trovo Sento dei rumori Dal balcone di sopra Mi affaccio E vedo Una persona Tenta A scassinare Una finestra Ok Lì Non è che c'è tempo Di pensare Lì ho preso la pistola L'ho armata E gli ho intimato Di fermarsi Quando gli ho detto così Ne sono usciti Altri due Di complici Quindi E erano tre E in questo caso Ho detto Guarda Scappate Correte Perché se no Ve sparo Comunque Ho sparo Un colpo per aria Per avvertimento Perché altro Per far capire a loro Comunque Ero armato E non scherzavo Ok Poi ho chiamato I carabinieri Per Diciamo I vari controlli La cosa In 15 anni La cosa che mi è capitata Diciamo Di più Più Estrema Hai avuto Hai avuto paura In quel momento Quando No No Poi comunque A sangue freddo Non senti niente Agisci e basta Poi ecco Magari le sere dopo Lì avevo un po' di paura Perché che ne sai Hai capito? Certo Cioè poi Una volta che Subisci la L'esperienza Poi è chiaro che Te lo aspetti Se lo vedi una volta Lo squalo Che può rispuntare Per esempio Mettiamola Lo squalo è piacevole Mi piace Però Quando vedi Sono gli umani Gli umani Che non Ok Dimmi una cosa Ma così Io faccio il pizzaiolo Nella vita di tutti i giorni Tu la pizza di Bonci L'hai provata a Roma? No Minchia La devi andare a provare Porca miseria La devi andare a provare Posto preferito Dove andare a mangiare a Roma? Eh A Roma? Eh Guarda Io a Roma Ma tu intendi Quanto riguarda Trattoria romana? O comunque Ma sì dai Il tuo posto preferito Dove va a mangiare? Dove ti piace andare a mangiare? Ma roma Odio il caos Quindi quando vado a Roma Vado a mangiare al giapponese Da shop skit Ok Basta che vede e basta E no Ok Pesce fuori Ne va a mangiare? Sono andato alla parolaccia Lì te lo consiglio Ok Perché Che cosa fanno là? Il locale la parolaccia A Roma? No No È un locale Che quando entri dentro Ti dicono tante Di quelle parolacce Ti dicono di tutto E di più Vattela a cercare Ok Ok E dimmi una cosa Io Per esempio Suonerà strano Però Poche volte Vado a mangiare la pizza fuori Perché non ho le palle piene Di pizza Giusto minchia Lavori ogni giorno Mangi pizza ogni giorno Che fatti Vado a mangiare la pizza fuori No Mi vado a mangiare un'altra cosa Però so A Palermo Dove fanno il pesce buono Tu Un posto buono Dove si mangia pesce buono Nella tua zona Ce l'hai? Quale consigliere Se chi ci ascolta? A casa mia Vieni a casa mia Te mangi un pesce Ma dimmi Io ho visto che tu Tu come tantissimi altri C'è sta cosa di mangiare il pesce Crudo Sì Carpaccio Tartare Di tutto Mangio che quello cotto Ok Ma come lo tratti? Lo abbatto Ah Lo abbatto Lo metto C'è un congelatore Che sta a meno 24 gradi Ok Quindi Due giorni Sei tranquillo Ok Ok Ma non c'avete Io cazzo Non lo Io dico Secondo me È un rischio inutile E comunque È capitato Che ho mangiato pesci Appena pescati pure Ho fatto Diciamo Un Una Siamo stati Negli anni passati A fare Delle Come cavolo si chiamano Delle 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 vacanze in Corsica Ok In gommone Tornivamo in gommone E lì C'è capitato Di prendere comunque Dentici E ricciole E mangiarle crude Subito Appena pescate Lì Non abbiamo abbattuto niente Abbiamo abbattuto solo L'animale In acqua Allora Dico Giusto per una totale Informazione Se si Eviscera Velocemente Il pesce Non si dà il tempo All'anisakis Di passare nelle carni Però È così Non lo so Cazzo Non mi sentirei mai Così sicuro Da farlo Però intanto È buono A quanto pare Buono Io sono anni Che lo mangio Magari C'avrò pure Qualche verme Dentro Sicuramente Sto bene Dimmi Parlami della tua alimentazione Sei che è un'alimentazione Particolare Rispetto all'attività In mare O No Diciamo che Sto solo attento A non mangiare tanto E non mangiare schifezze Però alla fine Cioè La vita è bella Perché Se mangi Se beve E se pesca Diciamo che se pesca Diciamo che Ecco Durante l'inverno Che vado a pesca di meno Perché Comunque Causa maltempo Ok Qualche corsetta Faccio un po' di palestra a casa Ma niente di che Matriciata Griscia O carbonara 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 Ok Va bene Così Sull'unghio Sceglimi Un compagno di pesca Demola O puretti Tra i due Puretti Ok Mazzarri O Avengual Mazzarri Ok Interessante Dimmi una cosa Sono curioso Come è nato il rapporto Con Polosub Cioè Come funziona Entrare all'interno Di un'azienda Come viverla Come Raccontami di questa esperienza Stiamo parlando di cinque anni fa Quattro cinque anni fa E niente Vabbè Come tu hai detto prima All'inizio Diciamo Che mi hai detto che Sono uno con la faccia più Vista sui social Sì Perché comunque Mi piaceva condividere Le mie pescate Mettendo delle foto Su vari gruppi di pesca Quindi metti oggi Metti domani Fin quando magari Non 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 stai simpatico Ecco a qualcuno A Che ne so Polosub Ok Carbonio GFT Ok Quindi magari Ti contattano Ti parlo in generale Come funziona Sì 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 Contattano Ti dicono Se Se vuoi Entrare a far parte Nel loro team Ok Poi comunque La Polosub Sta qui a Roma Ok Conoscevo Giuliano Poi Comunque A parte Sponsor C'è stata una grande amicizia Stima Infatti Quando andiamo in vacanza Andiamo sempre insieme Fantastico Tu sei sposato Hai figli Come Non ho figli Ma È come se fossi sposato Con la mia compagna Perché sono 17 anni Che stiamo insieme Ok Sono 17 anni Che mi manda a pesca A caccia Mi manda in vacanza In vacanza fuori Senza E come mai Non vi siete sposati Posso chiedertelo Beh Allora Lei vorrebbe Io però C'ho paura Che Dopo che ci sposiamo Ci lasciamo Dopo 17 anni Io gli dico sempre Guarda Sono passato 17 anni È andata sempre bene E ora devo sposare Guarda Se se sposiamo Poi si accanniamo Ok Ok Vabbè Prima o poi Succederà Che la sposo Sì Ok Bene Aspetta Gliel'hai chiesto ufficialmente Come Gliel'hai chiesto ufficialmente Sì sì Gliel'hai chiesto ufficialmente L'anno scorso Sotto al Colosseo Bella Giusto Ok Mi piace Ascoltami Una Ho una curiosità Nel mondo della Nel mondo dei social media Cosa andresti a cambiare Tu visto che comunque L'hai Lo vivi Perché comunque sei Come diciamo Quasi sempre presente Sì sono presente Oddio Prima pubblicavo di più Su diversi gruppi Guarda Io penso che Forse ci sono Troppi gruppi di pesca Che alla fine Sono sempre le stesse persone Ok Che magari Poi Tra un gruppo e un altro Ci sono i vari amministratori Che magari Non manco Vanno d'accordo Non è tutto Rose e fiori Però ecco Tanto Sempre Tanti gruppi Ma sempre le stesse persone Quindi Sì Dici sarebbe meglio Centralizzare tutto Fare meno roba Ma più di qualità Uniti tutti insieme Perché tanto così Non c'ha senso Io colgo l'occasione Per invitare i nostri spettatori A contattarci su Instagram Per accedere Alla nostra community privata Su Whatsapp Tra parentesi Una cosa Io Se non erro Tu sei stato Su qualche copertina Di Pesca Sub Esatto Sti cazzi Che figata Raccontami di com'è andata Sta cosa Innanzitutto Voglio precisare una cosa Io quando ero ragazzino Che avevo 15 anni Cioè I coetanei miei di scuola Andavano da Un cartolibreria O già al giornalaio A prendere le figurine Io mi compravo La rivista Pesca in Apenea Quindi pensa un po' Ok Poi E' successo Che comunque Col fatto di viaggiare All'estero E fare questi viaggi Di pesca Mi ha contattato Avevo scritto Diciamo Un articolo Del primo viaggio Che avevo fatto Fuori L'avevo scritto A Giuliano E' piaciuto Mi ha messo in contatto Con Con Luca Laudati Della rivista Pesca Sub Mi ha mandato L'articolo Gli è piaciuto Da lì è nata Diciamo Una mini collaborazione Quindi Quando vado fuori Se ho qualche Qualche articolo Della vacanza Gli riesco Gli domandi Ma di lì A finire in prima pagina In copertina In prima pagina Perché comunque Le copertine Sono sempre mirate A A un marchio Se tu vedi La copertina C'è sempre O Cresci O Polo Quindi Se vi A quel mese Usciva PoloSub Ti faccio un esempio Quindi Prendiamo una foto Di PoloSub Ok Dicono che faccio Foto belle Anzi Mi faccio Foto belle Perché sono tutti Quelli che mi faccio Vogliamo spiegare Come fai una bella foto Perché Dico Non è una cosa facile No Non è una cosa facile Ci vuole tempo Io di solito Ecco Poi di solito A mare sono da solo Mi porto Vabbè Un treppiedi Attacco il telefono Autoscatto Giro la fotocamera E Cerco di farmi Diverse foto Fin quando Non trovo A me piace molto La tua composizione Che è sempre Allungata Verso Verso la telecamera Sì Io tendo a mettere Diciamo Sui pesci più belli La testa del pesce Avanti a tutto E comunque Nella foto È il pesce Che deve spiccare E a mare Poi dietro il pescatore Che se ne frega Mette in risalto Appunto il pesce I colori Ti posso dire Che fai veramente Un bel lavoro Da questo punto di vista Perché anche Un certo Senso di brand Che nella tua figura Cioè sono molto costanti Nella qualità E nella composizione Sono veramente belle Mi piacciono tanto Le foto Non sei l'unico Che me l'ha detto Però ci perdo Molto tempo Per far foto Capace che Una foto bella Per tirare fuori Quella foto bella Mi ho fatto 70-80 È nato scatto Sì Sì No ma ci credo Assolutamente Raccontami Quando tu Sei andato in edicola E hai presso Quel giornaletto Come ti sei sentito? Diciamo Il giornalario Mi guarda E mi fa Ma Eh guarda Sarei io questo Ma davvero Massa che bel pesce Poi mi ricordo Che la prima copertina Stavo con un dentice Era un bel dentice Un dentice Di 6 kg e mezzo Ma mazza che bel pesce Ma dove l'ha preso? Eh qui alla Dispoli Ma davvero Qui da noi ci sono questi pesci Eh già Massa bravo Complimenti Grazie Bello 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 Vedi ora uno dice Come fa un anno Riempirsi di sé Quando esci sulla copertina Da là Ovvio Beh sì È una bella cosa Sicuramente No Mi piacerebbe tantissimo Anche a me Non trovo nascondo Sarebbe veramente bellissimo E Un po' Sarebbe Una cosa bella Un po' per tutti Sì Sì Assolutamente In prima pagina Sua rivista Pesca sub Dai cioè Chi dice di no È incazzaro Eh sì Concordo Concordo Viva la tv verità Assolutamente Eh Ok 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 mi sto piacendo Questa cosa Perché comunque Vedi Ho la sensazione Tra parentesi Forse per Per maggiore forza di causa Mi piacerebbe Intraprendere con te Questo discorso Che è Un po' Il senso della rivista Per maggiore forza di causa E per una questione di tempo Si vada perdendo E con piacere ho notato Che Nello specifico Eh pesca subacquea La rivista L'unica credo essere Rivista che c'è in commercio Si stia approcciando Sempre di più Al mondo online Stanno curando più La pagina Instagram Quindi secondo me C'è un po' Di aria fresca Che è entrata in azienda Eh Cosa Cosa ti piacerebbe Vedere a te Oggi di diverso Nel nostro settore Tra virgolette Da un punto di vista Giornalistico Che magari Non trovi Ci hai mai pensato No sinceramente Non ci ho pensato Perché non è Il mio campo Questo Ecco Ok Però Dici tu Comunque il cartaceo Tenderà sicuramente Ad andare indietro Col fatto Dei Dei canali Comunque Facebook Instagram Eh Andrà tutto sul virtuale Sì Sì Anche se comunque Il cartaceo Ha il suo fascino Io Sì Ti dico La verità Mi piacerebbe Comunque il cartaceo Che deve essere Il cartaceo Ecco Concordo Concordo Ha sempre Quella sensazione Di eterno Hai qualcosa In mano Ma Sì Che c'hai Non c'è niente È tutto È tutto volatile Assolutamente Concordo Ok Allora Il mondo delle competizioni Lo segui Il mondo della competizione Dico No Giusto perché Scorrendo Mi capitano Vedo So chi vince Chi non vince Però ti ripeto Io il mondo Agonistico Proprio Non ci sei Né dentro Né dentro Lo segui Da fuori Ok Perché comunque Ti ripeto Non fa per me Ma senza nulla Togliere a chi lo fa Anzi Diciamo che Li stimo pure Perché non è da tutti Non è da tutti Ci vuole costanza Pazienza Di essere molto determinato Ci deve C'è una gran bella testa Per fare le gare Ecco E comunque Praticamente Deve essere una bomba Cioè Deve essere pure quello Uno stile di vita Ecco Sì 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 Assolutamente vero Concordo Deve avere il tempo Chiaramente La possibilità di farlo Hai avuto un mentore Nella tua Storia da pescatore subacqueo O sei stato Autodidatta Sono stato Autodidatta Ti ripeto Mi portava mio padre Da bambino Ma mio padre Diciamo Non era Ai livelli Che sono io adesso Diciamo Non è che io sono un fenomeno Però Mi padre Andava col Medis Con la Fiocina Seppie Porti Qualche triglia Finiva lì Ti ripeto La passione Me l'ha trasmessa lui Poi io da solo Da solo Andavo Mi ricordo Da ragazzino Nei negozi di pesca Dove Mettevano i VHS Mi guardavo Le cassette Dei Dei Pionieri Della pesca Stavo sempre lì A guardare A guardare A guardare Comunque Sempre da solo Ho fatto tutto Molto gradualmente Non ho fatto Purtroppo Corsi di pesca In apnea Ma Ho potuto in mai fa Perché col fatto Che lavoro di sera I corsi Fanno sempre la sera Quindi Però Penso che Con l'esperienza Che ho È come se avessi fatto Un corso di pesca Ok Dimmi una cosa C'è stato un momento Questa è una domanda Che faccio a tutti Ed è sempre difficile Dare una risposta Però io La butto sempre lì C'è stato un momento In cui hai capito Qualcosa Che ha drasticamente Cambiato La tua esperienza In mare Da pescatore E che poi Ti ha dato Cominciato a dare Una certa regolarità Nelle catture Sì Essere molto paziente Devi essere paziente Molto rilassato Con te stesso Ok E se sei paziente Rilassato con te stesso Non devi avere Quando vai a pesca Devi essere in divertimento Devi essere Rilassato Tutto quello Se magari hai Dei Non lo so Dei pensieri Cattivi Se hai avuto Magari giornate Se hai problemi Quello Devi lasciare tutto A casa Quando stai Sott'acqua Ti scappi Nel mondo Devi lasciare tutto Alle spalle E quello Ti cambia proprio Il modo di pescare Devi essere rilassato Con te stesso Rilassare i muscoli Mente tutto Li cambia Ok E a proposito Di pensieri negativi Ti è mai successo Qualcosa di Particolarmente brutto A mare Come esperienza Beh guarda Brutto 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 Per fortuna Non mi è mai successo niente Magari sono andato Una volta Ho allungato Un po' troppo L'apnea Ma più che altro Perché mi era Mi era preso Un crampo Sul polpaccio Quindi allungando L'apnea Sono arrivato su Pelo pelo E Poi ecco Sono arrivato su Tutto ok Ma ci sono stati Due tre secondi Che non ho capito nulla Infatti poi Quando mi sono ripreso Non avevo più Il fucile in mano Ok Me ne ero accorto Che avevo lasciato Il fucile A proposito di crampo Minchia Me ne è venuto Un'ora Porco Giuda Fantastico E perdonami T'ho rovinato Il momento Scusami Quindi tu praticamente Sei Svenuto Hai persi i sensi Come Diciamo Che non sono proprio Tornato in superficie Come dovevo tornare Ok Ed eri da solo Suppongo O no Stavo da solo C'era anche un pagno Pure lui Non ci ha capito niente Perché comunque È stato veramente Due secondi Che poi ho fatto Ho fatto così Non mi sono ritrovato Più il fucile Subito ho pedagnato Poi l'ho ritrovato Insomma Ok Chiaramente Acqua torbida Quindi Sì 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 Ok Hai perso tante cose a mare Tu Nella tua vita De tutto A mare De tutto Ho perso coltelli Ho perso fucili Ho perso pinne Torce Maschere Tutto La cosa che hai perso In maniera più stupida Beh in maniera più stupida I fucili che volano dal gommone Quando Quando si è andata Mannaggia Qual è il primo pensiero Che ti viene Quando Cioè te ne accorgi sul momento O te ne accorgi quando ti fermi Te ne accorgi quando ti fermi No Quando ti fermi Che Ti prepari Ti metti le pinne Maschera Tutto pronto E Cazzo L'avevo messo qua No Cazzo Ti racconto una cosa Che veramente Me la ricordo ancora oggi Come se fosse oggi Corso di pesca subacquea Prima uscita in gommone Io non ero quasi mai stato in gommone Ero stato su una barca Ma non sul gommone Seduto sul tubolare Ci muoviamo A velocità Da crociera Per Uscire Versi gli spot di pesca Sputo nella maschera Mi affaccio dal tubolare Sciacco la maschera Che mi viene tirata via Dall'acqua E praticamente Ho perso la maschera Minchia praticamente La germata era finita Perché nessuno aveva Una maschera in più Per fortuna Il mio istruttore Di lì Tira il pedagno In acqua E poi fortunatamente La ritrova Nel Sulla Poseidonia Che figura di merda Ma che culo Allo stesso tempo Sono fortunato Perché a me Io in navigazione Mi sono perso pure Un iphone Solo che Il pedagno Non lo potevo lanciare Perché stavo A una profondità Di 60 metri In navigazione Mannaggia Mamma mia E invece Dimmi l'esperienza Che più ti ricordi Con piacere Qual è stata O che è Quando vuoi raccontare La pesca subacquea Prendi quella Come esempio L'esperienza Eh Un'esperienza Figa Sott'acqua Fammi pensare Non lo so Quando vai a pesca È sempre Una nuova esperienza Ecco Giusto Diffico E quando vai all'est Quando vai fuori Ecco Quando ho pescato Nello stretto di Gibilterra Nelle correnti Ok E lì ti butti C'è una corrente Causata Dalle alte Basse maree Una corrente Impressionante Quindi li peschi A corrente Come un fiume Ti butti Vai lì E poi I pesci È come un pò Un tirassegno Quando stai Quando mentre scorri Se vedi qualcosa Ti riesci a sparare Ok Che pesce Che pesce Hai pescato Quando sei stato lì Allo stretto di Gibilterra Sì Sì Abbiamo preso Dentici Abbiamo preso Abbiamo preso Dei Non mi vengono Le C'hanno dei nomi strani Bocchete Può essere Borrichete I borrichete Ok I borrichete Poi pure Saraghi faraone Le urta Che sono quelle rosse Quelli sono bellissimi Nei presto e tu Sì Ma raccontami di sta È il pesce È il pesce dei miei sogni L'ho vista alle Canarie Ci sto tornando a novembre Lo voglio catturare È bellissimo È un pesce spettacolare Beh poi È un rosso acceso Forte È un misto Tra un orata Un dentice Sembra C'è un È un misto Tra un orata E un dentice Ma Ha dei colori Spettacolari Tutto rosso Punticchiato Bellissimo Hai Sei riuscito a capire qualcosa Su di loro Sul loro comportamento Qualche dritta Me la sapresti dare O è molto Cioè Di passaggio No Ma anche No Anche perché Quando sta lì Ti ripeto L'emozione Quando sta lì Non capisci niente Comunque Di pesce Ce ne stanno Tanto La spari Uuu Andiamo al prossimo Allora A parte che Quando vai in questi posti Così Non è che ti metti A spara tutto Comunque lì Fai una grande Selezione Però di pesce Ce ne sarebbe tanto Allo stetto Di Gbiterra Ci stanno Triglie Da Da chilo Ma Manco Gli sparono Lì del posto Cioè Capito Cioè Ci sparoni enormi Ma non gli sparano Loro Chi abita lì Comunque punta più Sulle urte Sulle ombre In bocca d'oro Ricciole Dentici Su queste Ci esce Tu Io ti racconto Sono stato a Fuerteventura L'anno scorso Pesce dei sogni Sempre visto Poi ci sono dei ragazzi Che pescano Alle canarie Anche profondi Gesù Simene Qualcosa Che pescano Di voi 50 60 metri Roba scioccante E sparano questi mostri Insomma Ho idealizzato In questo pesce Il pesce dei miei sogni Mi piace tantissimo Quando lo vedo Attiro Quando c'ho la fiocita Amaro C'ho il Polspier in mano Un Polspier Di merda Di un metro e ottanta Il pesce Il pesce là Così Un pesce Secondo me Stimato sui due chili Attenzione Non un pesce Particolare Però era lì Minchia Sto pesce Scatta via Detto No Non è possibile Da 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 riprovare Assolutamente Ci riproviamo Qual è stato Nel Mediterraneo Il viaggio Che ti è piaciuto Di più Di pesca E quale ti è piaciuto Di più Invece Fuori Dall'Europa Nel Mediterraneo Quando sono stato In Corsica Ok La consiglieresti Quindi Beh Quando si è in vacanza Sempre tutto bello Solo che Ecco La Corsica Purtroppo Ha molte Ristrezioni Come Non puoi sparare Cerni Dotti Da quest'anno Puoi prendere Soltanto Un Dentice Embarcazione Quindi Vai lì Che fai Non puoi Niente Non le puoi sparare Cioè Che fai Spari Un dentice I sarghi La Corsica È bella Sì Prendi Ricciolone Ok Però Boh Ok A posto Me ne vado All'estero Che è meglio Ok E invece All'estero Qual è il posto Che ti è piaciuto Di più All'estero Il posto Che mi è piaciuto Di più Che riandrei A Miami Florida Anzi Key West Preciso Key West A Key West Perché Diciamo È la punta Più a sud Ed esposta Della Florida Che da una parte C'è l'Oceano Atlantico Dall'altra parte C'è il Golfo del Messico Sono due posti Diversi o simili Tra di loro Vabbè no Sono Diciamo Simili Però ecco Se magari Da una parte Il mare è mosso Dall'altra parte È rilassato Ecco Mi direi Che nel Golfo del Messico L'acqua è un po' più torbida Solitamente Ok Allora Visto che Dico hai viaggiato tanto Qual è il tuo setup Da viaggio E come limiti I ipotetici danni Della serie Metti Dividi la roba Tra i bagagli Raccontami di come ti muovi Da questo punto di vista Allora In anni Usavo Un portacanne Normale Da pesca Mettevo tutto là dentro Imballavo con la carta Avelina E andavo all'aeroporto Spedivo così Ed è sempre andata bene Non mi hanno mai rotto niente Il problema è che Quando stai all'aeroporto Soprattutto All'estero Non puoi mai nominare La parola fucile Perché Sto fucile dentro l'aeroporto È un problema Ogni volta Quindi devi sempre Specificare Attrezzatura da pesca E non fucile da pesca Pensa in Spagna Quando sono stato a pesca A minorca Al ritorno Mi hanno fatto una multa Perché non avevo specificato Che era un fucile da pesca Mi hanno fatto una multa Di una cazzata Da 15 euro Però Secondo loro Io devo specificare Che c'era un'arma Nel mio bagaglio Perché per loro Pure se è un fucile da pesca Comunque è un'arma Ok E niente Poi comunque Ultimamente invece C'ho lo sport tube Non so se lo conosci Quel tubo Lo allunghi come ti pare Metto tutto là dentro Chiudo tutto E via Metti le mute Anche lì dentro Cioè localizzi tutto All'interno dello sport tube Allora Quando prenoto l'aereo Prendo sempre Un bagaglio tassiva Che quello Ma c'è un costo fisso Deve essere Non superiore A 23 kg Io uso quello Come Per l'attrezzatura da pesca Uso quello E poi i vestiti Li mettono nel bagaglio In mano Quindi non lo prendi Come bagaglio sportivo No Bagaglio normale Tassiva Perché io Il bagaglio sportivo Normalmente per esempio Con EasyJet È di 20 kg Quindi stai dicendo Che magari Prendendolo da stiva Riesco a Io lo prendo da stiva Io ho sempre fatto da stiva In base alla compa E non c'ho mai avuto problemi No per dirte Con Ita Non ho avuto problemi Però se non sbaglio È capitato che Non trovavano come bagaglio Normale da stiva Ma per loro era speciale Sì Quando lì Te fanno storie Per 20 euro Gli dai 20 euro E buonanotte Ecco Ma poi è comunque È utilizzabile Per qualunque cosa È rigido C'è le rotelline È telescopico Ed è tanta roba È comodissimo Sì Io E ci ho messo due attrezzature Dovremmo che stiamo andati a Miami La mia È di Giuliano Eh sì Eh sì No È veramente Costa Quanto costa Un 200 180 Mi pare che la serie 2 Io l'ho pagato 2,40 In offerta Eh può essere Sì 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 Però comunque All'inizio su Amazon Li trovi a molto di meno Poi se vede che si è sparsa la voce Sì 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 Assolutamente Assolutamente Ok Dimmi una cosa Che cosa Che cosa consiglieresti A chi sta cominciando a fare Pesca subacque Oggi Di fare Un corso di apnea E di fare tutto Per gradi Non Non fare niente Di fretta Rilassarsi Fare tutto Con tempo Ci vuole tempo Non è che uno da un giorno All'altro diventa Pescatore in apnea No Tu ne guardi video Di pescatori Su Youtube Sì Guarda All'inizio Li facevo pure io Ok Poi Porta la telecamera Si scarica la telecamera La batteria Poi è diventato Limpiccio Io voglio andare a mare E me do rilassare Non voglio avere niente I video ce l'ho in te Comunque mi capita Di vedere Dei video Hai qualcuno Che preferisci Più di tutti Che segui Maggiormante Beh Io mi guardo i video Di Jack Cumbedo Francesco Senna Questi qua Ok Ok Invece Di internazionale 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 Qualche video Che vedo Su Su Instagram Un po' di tutti Ma Non per la persona Più che altro Per i mari diversi Te ne sei sparati i video Prima di andare a Miami Sì Qualche video Sì Qualche video Su Relitti Sì Ok Ci sei andato Con qualche desiderio particolare A sto giro Avevi intenzione Di catturare qualcosa Sei andato molto sciallo Tipo Di un cazzo succede Io di solito Vado molto sciallo Senza aspettative Perché poi magari Se te va male Che fai Ci rimani male No Comunque Come vada vada È sempre un'esperienza No Arrivati lì Comunque L'obiettivo Era di prendere Un African Pompano Che non so Se Era quello Che poi Ha preso Giuliano Tagliagozzo Io gli faccio il gesso Così da dietro È bellissimo Comunque Poi vabbè Chi l'ha preso L'ha preso È veramente È un'esperienza Come la vivi questa cosa Vedi Senza filtri Ci sei rimasto un po' di merda Che l'ha preso lui E non tu No Allora Il fatto è che Il tutto successivo Mi ha portato a me Ok Gli ho sparato Ma Non ci sono arrivato Che comunque È una cosa e un'altra Poi Giuliano Tagliagozzo Comunque Lui Lo conosce chiunque Per il suo gran culo Lui Ha All'asso nella manica Quindi Vai Si è capito Qual è quest'asso nella manica Oppure no Ma È un mistero È un mistero Però Giuliano Sa il fatto suo Lui ha tanta esperienza Ci si sa fa Ok Ok Invece sarebbe tantissimo Perlo come ospite Poi Poi Scrivo Dai Ok Ma allora Parli meglio pure del Blue Camp Sicuramente No assolutamente Guarda Io quest'anno Quando ho visto la logondina Uscire fuori Non sembravano esserci Dei recapiti Per accedere Quindi ho detto Questa è una cosa O tramite invito O devi conoscere qualcuno O È È È Numero molto 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 Ristretto Ok Di solito Giuliano cerca di accontentare Un po' tutti Quindi Se tu magari L'anno prossimo Vuoi partecipare Dici Iscrivetevi Vediamo Se si riesce a fare qualcosa No Ho capito No Siccome Mi sarebbe piaciuto Partecipare Non te lo nascondo Anche perché C'era pure Daniel Mann Andando a sto giro Che è un grande picciotto Ho detto Minchia ma Però lì per lì Ho detto I suoi video Guardo Per quanto riguarda Le persone Daniel Daniel Quello fa Il cinematografo Un grande E mi era Mi ero posto questa donna Ho detto Guarda E lì ho capito Beh probabilmente Devi fare parte Del loro network E loro lo promuovono Comunque come evento E C'è Nell'ambiente Esatto Esatto Che ci sta Che ci sta E comunque Secondo me Ci vogliono queste cose Nel senso che Quanto più se ne fanno Quanto più se ne organizzano Certo Quanto più Si fa vivere la pesca Subago a 360 gradi Anche a quei pochi Va a creare quel senso Di Di appartenenza Di esclusività E di E di promozione Comunque della disciplina Vi siete divertiti Ho visto che hai preso Un sacco di scorfani tu Sì Un giorno ho detto Io oggi Non girava pesce Ho detto Qualcosa Devo dire fuori Mi sono messo A cercare In tutti i buchi I scorfani rossi E E quel giorno Però Dico E però C'è qualcosa Che a me sta sfuggendo C'è una cosa particolare Che cerchi Quando cerchi Lo scorfano rosso Sì Diciamo In quelle zone del giglio Diciamo Che loro di solito Stanno sotto A delle tettoie Quindi Se tu Trovi uno scoglio Una roccia Che comunque Fa una tettoia 60-70% C'è uno scorfano sotto Ci deve essere Sabbia Roccia Roccia Sulla roccia Stanno Possono stare Sia sulla roccia Che sia sulla sabbia Bordo bordo La sabbia Tra sabbia E scoglio Quindi tu ti cercavi Le tettoie Tutte le tettoie Io mi sono fatto Parecchie Pareti del giglio Tante E Da sopra Comunque l'acqua è pulita Lì in cristallo Da sopra Mi guardavo Le possibili tettoie Scendevo giù E Pirovavo Pazzesco Cioè Non è che Quanti ne presi Te lo ricordi La quindicina Erano Mi ricordo E tutti bei pezzi Comunque Spettacolare Caccia proprio Di selezione Quella secondo me Una delle massime Sottoselezioni Sì infatti Quel giorno Veramente Mi sono proprio divertito Soddisfatto Perché L'ho cercato L'ho trovato L'avevo detto Faccio solo quello E basta E hai portato a casa Il punto Fantastico Giuseppe È stato bellissimo Conoscerti Mi ha fatto molto piacere Che dire Oh Ci becchiamo in giro Magari Quando capiti da queste parti Ti porto a pesco Che becchiamo in giro E poi Che becchiamo in giro Che becchiamo in giro